Nell'ultima gara a Sora non avete disputato sicuramente il miglior incontro, come vi siete preparati? Ne avete discusso? Sì, sappiamo di aver fatto una buona prestazione, però comunque abbiamo portato a casa il risultato. Ogni campo sarà una battaglia e adesso pensiamo a domenica, l'abbiamo preparata con il mister nel migliore dei modi e l'affronteremo con tranquillità e serenità. Come possiamo dire che quella contro la San Bernettese non è proprio una partita come le altre? Sì, sì, comunque è una partita importante ma non è decisiva. Noi l'affrontiamo come tutte le altre partite, sappiamo di incontrare una squadra forte, sarà un bel match da entrambe e due le parti. Sarà un Chieti pronti via subito all'attacco oppure dovrete capire un po' anche le intenzioni della Samba? No, sicuramente, come ho detto prima, affrontiamo una squadra importante, la rispettiamo e quindi cercheremo di usare le nostre frecce a nostro vantaggio. Non è la prima volta ma sarà uno stadio al gran completo? Sì, sappiamo di contare sui nostri tifosi, come ho detto sempre. I tifosi del Chieti sono fantastici, ci hanno sempre sostenuto e quando riusciamo anche a andare in vantaggio si accende l'angelimide, è difficile comunque perdere la partita.